E' ora signore il momento dell'associazione sport e cultura di Ravenna e con loro ci addentriamo nelle danze orientali e andiamo nell'equipo Egitto, riscopriamo quindi una cultura che non è pura nostra ma con la regina Nefertari sconotata dalle guardie reali che incontra Iside, Dea Madre, Madre, Dea della Verità, un'altra Dea, quante Dei incontrano ma noi vogliamo incontrare queste superiore danzatrici orientali con la loro insegnante Leonardo Caterina. Grazie! 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti